È difficile pensare che ci siano ancora luoghi incontaminati sulla Terra. Almeno dopo aver scoperto che pure al Polo Nord, 130 km oltre le isole Svalbard, in pieno Artico, si trovano tanniche, bottiglie e perfino confezioni di merendine, un oggetto dopo l'altro tra i ghiacci, a pochi metri di distanza tra loro. Tracce di un'umanità che ha pervaso l'intero pianeta, che sono state documentate da Franco Borgogno, torinese, giornalista e divulgatore scientifico e ambientale, nella mostra Innesti Artici, la lunga corsa delle plastiche verso il Polo Nord, nella sede dell'URP del Consiglio regionale a Torino. Le immagini sono quelle di 31 dei 160 reperti che Borgogno ha trovato durante la spedizione AI Nord 18 nel luglio scorso, nella banchisa polare. Abbiamo documentato la presenza di microplastica e, in questo caso, in maniera totalmente inedita, mai era stata documentata, di plastica, di grandi pezzi di plastica, oggetti interi o frammenti di oggetti nel ghiaccio della banchisa artica o appena fuori dalla banchisa artica. Insomma, i rifiuti di plastica, i nostri rifiuti di plastica, sono arrivati anche al Polo Nord, in pieno Polo Nord. Questo è l'ennesimo segnale, un segnale appunto inedito ma particolarmente importante, della quantità di rifiuti di plastica che sono presenti in mare. Il mare è uno solo, la corrente fa circolare l'acqua su tutta la terra e quindi un pezzo di mare inquinato in realtà significa che tutto il mare è inquinato. C'è un po' di tutto e quanto basta per lanciare l'allarme per un pianeta che, si stima nel 2050, vedrà nel mare il peso delle plastiche superare quello dei pesci. Una mostra per sensibilizzare l'opinione pubblica verso un tema che richiede attenzione e che il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto per ribadire il proprio impegno fatto, anche di cose concrete. Il Consiglio regionale ha lanciato una campagna, il Consiglio regionale plastic free. Nella mensa del Consiglio regionale non c'è più plastica, né bicchieri, né piatti, né cannucci di nessun tipo. Il governo mi pare che stia seguendo la stessa strada. Io credo che sia una strada rispetto alla quale non si può deviare. Se vogliamo lasciare un mondo ai nostri figli che sia degno di tale nome, quello nel quale peraltro siamo vissuti noi, questo è un passaggio obbligato. Le fotografie di Franco ci permettono di rafforzare queste idee. Innesti artici all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14G a Torino rimarrà aperta fino al 15 febbraio. Orari lunedì giovedì dalle 9 alle 12.30, dalle 14 alle 15.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30. L'ingresso è libero.